Non solo Safilo, quella di oggi è stata una giornata doppiamente importante per Telios. In mattinata la firma sull'accordo per l'acquisizione di parte dello storico impianto longaronese e nel pomeriggio la notizia dell'acquisizione dal fondo di investimento NIO Investment Partner di Huarnet, il rinomato brand francese di occhiali outdoor con alle spalle 60 anni di esperienza e pioniere nella produzione di lenti in materiale minerale. Si tratta della prima acquisizione di un marchio da parte di Telios. Telios, un'operazione, fanno sapere i vertici aziendali, che rappresenta una pietra fondante nello sviluppo della realtà del gruppo LVMASH, che intende espandere ulteriormente la sua presenza nell'occhialiare di lusso tramite brand di proprietà. Telios intende riportare il marchio Huarnet al suo splendore, elevando ulteriormente la qualità dei suoi prodotti e spingendosi oltre i confini dell'innovazione. Fondato nel 1957 dall'ottico pioniere Roger Poilu e dal campione olimpico di sci francese Jean Huarnet, il brand ha raggiunto la popolarità anche grazie al grande schermo, dove è stato indossato da Alain Delon in La Piscina, da Jeff Bridges in Il Grande Lebowski e da Daniel Craig in James Bond Spectrum. Siamo entusiasti di annunciare l'acquisizione di Huarnet, il primo marchio di proprietà di Telios, afferma Alessandro Zanardo, amministratore delegato di Telios. Si tratta di un brand leggendario con una storia unica che merita di essere preservata e perpetuata. Il design distintivo, il know-how unico per la realizzazione di lenti minerali e i forti valori aziendali sono un match perfetto per il nostro ethos e posizionamento.